Sono 16 pakistani che da alcuni giorni avevano deciso di dormire sotto l'ingresso della succursale del liceo scientifico in Viale Bovio a Teramo. In precedenza erano stati ospitati da una parrocchia e ora cercano un alloggio che non trovano. Una questione su cui sono intervenuti il centro politico Santa Croce e la Casa del Popolo che chiedono a chi di dovere di trovare un alloggio per queste persone, ma nel frattempo hanno aperto le porte della loro sede per dare un aiuto. Ieri ci siamo accorti di questi ragazzi che erano già da un po' di tempo a Viale Bovio e dormivano in strada. Allora ieri abbiamo deciso di contattarli, di avvicinarli e capire un po' la loro situazione. Ci siamo resi subito conto che praticamente avevano bisogno di un alloggio e abbiamo incominciato a contattare tutti i vari enti. Ieri era domenica e nessuno praticamente ci ha risposto e abbiamo aperto le porte della Casa del Popolo per far sì che avessero un riparo e quantomeno un bagno per le loro necessità. Questa mattina ci siamo attivati, siamo venuti qui allo Sprar, cerchiamo soluzioni immediate perché non è che possono restare la Casa del Popolo, la Casa del Popolo abbiamo tamponato la situazione ma oggi al massimo domani questi ragazzi devono essere accolti. Una situazione molto delicata su cui il Comune di Teramo in stretta sinergia con la Prefettura e la Questura sta cercando di trovare una soluzione. È molto difficile e non è questione semplicemente che nel Comune di Teramo non c'è un dormitorio perché è bene comunque sottolineare che i dormitori hanno un carattere temporaneo e di emergenza. Quindi anche se oggi ci stesse un dormitorio a Teramo questi ragazzi potrebbero starci al massimo una settimana e non si risolve la situazione. Con i vari decreti che si sono susseguiti riguardo sui flussi migratori oggi c'è un problema proprio di numeri perché si sono contenuti molti numeri dei centri di accoglienza e questo è chiaramente un problema. So che la Prefettura in questi giorni sta cercando di ampliare proprio per dare soluzione a questo fenomeno. Attualmente ancora non siamo riusciti a trovare un alloggio per questi ragazzi ma credo che nelle prossime ore sono speranzosa quantomeno di riuscirci.